Eccoci qui, rieccoci qui, un saluto come state, vi invito come sempre a iscrivervi nella zona del logo AL, attivate la campanella, lasciate un like e commentate numerosi qui sotto. Parliamo di Antonio Conti, innanzitutto con una novità perché lui non è andato a Londra, è rimasto in Italia, a Torino, per stare a casa, prendersi cura di sé. Sapete che recentemente è stato operato alla Cistifellea e lui ha detto di essere rientrato un po' prima, di aver provato ad accorciare i tempi, ma il problema era serio e quindi è giusto affrontarlo con le giuste modalità e tempistiche. Per questo la squadra in questo momento, il Tottenham, va al suo vice. Lui ha parlato molto bene poi dopo la gara dell'Italia dicendo un giorno tornerò, non sarà un problema tornare in Italia, è il mio paese, sono stato anche CT. Un giornalista di Repubblica ha raccontato che Antonio Conte sarebbe il sogno proibito di Gerry Cardinale. Secondo il collega non è un mistero che Cardinale abbia come obiettivo quello di portare Antonio Conte al Milan e per questo nell'ultimo periodo si sta parlando molto anche sui social di questa ipotesi Antonio Conte-Milan. Prendo atto di questa indiscrezione, a me non risulta sia il sogno proibito, però è giusto insomma riportarla, visto che arriva da un collega e visto che se ne sta parlando anche tanto. Io non vedo sul fatto che lui sia rimasto in Italia problemi extra rispetto purtroppo alla salute e Cardinale ha rinnovato la fiducia nello spogliatoio non più tardi di martedì sera a Mister Pioli, quindi mi sembra davvero molto molto improbabile. Con Maldini Pioli resta e resterà, dovesse arrivare una nuova squadra dirigenziale, non credo comunque che il contratto di Conte possa essere alla portata del Milan salvo che lui decida di tagliarselo, di dimezzarlo. Attualmente percepisce cifre iperboliche. Però se ne parla, se ne sta parlando, io rimango scettico, molto scettico, ma vi riporto che insomma, secondo qualche collega, il grande sogno di Cardinale sarebbe Antonio Conte. A me sembra improbabile. Un saluto! A me sembra più di 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 più Grazie a tutti.